In questo video concluderemo l'argomento dei pronomi. Vedremo che cosa sono i pronomi interrogativi, quelli esclamativi e infine quelli numerali. Il primo nucleo di pronomi che vedremo oggi è quello degli interrogativi. Che cosa sono? Sono dei pronomi che introducono una domanda che ricordiamoci può essere sempre o diretta o indiretta, quindi col punto di domanda alla fine oppure senza punto interrogativo con un semplice punto fermo in cui la richiesta è introdotta, dato che non c'è il punto di domanda, da un verbo che esprime l'azione di chiedere, ad esempio ti avevo chiesto se ti andava il latte, punto. La domanda è introdotta dal verbo chiedere e dalla particella se, mentre nella domanda diretta è ti va il latte? Nella lingua parlata inoltre c'è anche un'inflessione della voce che sale, man mano che finisce la domanda, ti va il latte? Sentite che sale il tono della voce proprio per esprimere la domanda. Per iscritto vedete solo il punto di domanda. Quindi i pronomi interrogativi introducono una domanda che può essere, come abbiamo appena ripassato, diretta o indiretta, su che cosa? Su qualità, quantità e identità del nome che sostituiscono, cioè ci chiedono di precisare qualcosa del termine che sostituiscono. Vi porto qui un esempio per distinguere sempre la cosa che è più difficile in questo ambito fra pronomi e aggettivi, visto che spesso sono identici nella forma. Vado a prendere il giornale. Quale preferisci? Che ne so, Corriere, Repubblica, La Stampa? Ecco, è un pronome, perché quale sostituisce il nome giornale e non va a fianco ad esso, come invece succede nell'esempio che vi ho portato sotto. Se volessimo ripetere, la frase risulterebbe ridondante, ma sarebbe. Vado a prendere il giornale. Quale giornale preferisci? Oppure possiamo usare un sinonimo. Quale testata preferisci? La testata è appunto un altro sinonimo per definire giornale. Nell'esempio sotto invece vi faccio vedere come la stessa parola, lo stesso quale, viene usato come aggettivo e non come pronome, quindi non sostituisce il nome ma gli si affianca. Vado in edicola. Quale giornale preferisci che prenda? Vedete? Quale giornale? Qui è aggettivo interrogativo. Sopra invece è da solo, sostituisce giornale per non ripeterlo, quindi è pronome interrogativo. Quanti sono i pronomi interrogativi? Sono quattro, semplice. Chi, che, quale, che al plurale fa quali, quanto, che al femminile fa quanta e ai plurali quanti o quante. Allora chi è invariabile, quindi va bene per singolare o plurale, maschile o femminile. Si usa solo come pronome. Chi non lo troverete mai come aggettivo, quindi non lo troverete mai a fianco a un nome, a fianco a un'altra parola. È usato solo per sostituire. E per sostituire che cosa? Solo le persone, quindi no le cose, chi non si dice di una cosa e neanche di un animale. Solo persone. Che anche lui è invariabile, quindi stessa forma per singolare, plurale, maschile, femminile, sempre che rimane. Che però ha una differenza, si usa anche come aggettivo. Infatti qua potevo dire che giornale preferisci che prenda? Stessa cosa. Che si usa solo per le cose. Chiaro? Quindi non con le persone, non con gli animali. Quale, che al plurale fa quali, è variabile nel numero, perché vedete ha un plurale distinto dal singolare, un'altra forma per il plurale, quali, quindi è variabile nel numero, ma non nel genere. Quale, infatti, va bene sia per il singolare maschile, sia per il singolare femminile. Ugualmente al plurale quali, va bene sia per il plurale maschile, sia per il plurale femminile. Quindi è variabile nel numero, ma non nel genere. E anche aggettivo. Quale può anche fare d'aggettivo. Qua sopra l'esempio lo dimostra. Aggettivo, con quale. Quale si usa per persone, per animali e per cose, per tutte e tre le categorie. E infine quanto, nelle sue altre forme, vedete quanto ha quattro uscite, ha quattro forme, quindi sarà variabile sia nel genere, ha le forme femminili, sia nel numero, perché ha le plurali. Fa anche d'aggettivo, quanto l'abbiamo studiato, si può fare anche aggettivo numerale. Va anche lui bene per persone, per animali e per cose. Non sono complicati come pronomi questi. Passiamo quindi agli esclamativi. Sono le stesse forme, come vedremo. E che cosa fanno gli esclamativi? Introducono un'esclamazione su sempre qualità, quantità, identità del nome che sostituiscono. Quindi esprimono un'esclamazione in riferimento a un'affermazione che si è appena fatta, in genere. esempio. Non ho mai visto così tante auto, accidenti quante. Vedete? Quante si riferisce alle auto senza ripeterlo. Se volessimo esplicitare che cosa il pronome ci sostituisce, dobbiamo dire non ho mai visto così tante auto, accidenti quante auto, oppure quante macchine, se vogliamo trovare un sinonimo per non essere ripetitivi. Siete d'accordo che quante sostituisca auto e renda un'esclamazione, allora è pronome esclamativo. Pronome perché sostituisce auto per non ripeterlo, esclamativo perché appunto esprime un'esclamazione. Ma quante si può usare anche come aggettivo? Certo, basta che sia vicino al nome col quale fa l'esclamazione. Esempio di quante usato come aggettivo esclamativo che abbiamo già studiato. Non ho mai visto così tanto traffico. Accidenti, quante auto? Quante auto sono vicini, quindi non sostituisce, però esprime comunque un'esclamazione, allora è aggettivo esclamativo. L'abbiamo detto prima, i pronomi esclamativi sono quattro e sono identici agli interrogativi che, sempre invariabile, quindi va bene sia per maschile, femminile, singolare e plurale. Si usa solo come pronome, come aggettivo chi non l'avremo mai, a differenza degli altri tre, e si usa solo per le persone. Che, anche lo invariabile, l'abbiamo detto nella slide precedente, può fungere anche da aggettivo e si usa per le cose. Quale è variabile nel numero ma non nel genere, fa anche da aggettivo, va bene per animali, persone, cose, per tutte e tre le categorie. Quanto è variabile nel genere e nel numero, può fare anche l'aggettivo e va bene per tutte e tre le categorie, animali, cose, persone. Non è difficile, sono fra i pronomi più semplici, anzi, sono i più semplici questi che vediamo oggi. E infine i numerali. I numerali cosa fanno? Precisano una quantità numerica del nome che sostituiscono. Vi ho portato tre esempi, tutti di pronomi. Ho visto trenta persone, ma sono riuscito a parlare solo con cinque. Se volessi esplicitare, ho visto trenta persone, ma sono riuscito a parlare solo con cinque persone. Per non ripetere persone, usiamo un pronome. Cinque, oltre a dirci il numero, la quantità numerica, ci sostituiscono anche il nome persone. Ha la doppia funzione, è un pronome numerale. Il pronome numerale ci può dire anche l'ordine, quindi anche ordinale potrebbe essere, oltre che cardinale. Esempio. Al cinema proiettavano Mr. Bean e la pantera rosa. Ho visto il secondo. Il secondo ci esprime l'ordine nella frase che ho posto io, quindi ho visto la seconda opzione che ti ho detto, senza ripetere che cosa era il secondo. Vedete, spesso si usò il primo e il secondo quando esprimi due aspetti e ti vuoi concentrare il suono dei due. Questa è una particolarità, state attenti, perché a fare da pronome numerale non sono solo quelli che fungono anche da aggettivi numerali cardinali e ordinali, ma anche i collettivi, per esempio entrambi o ambedue. Vi faccio un esempio. Signore, desidera il prosciutto crudo o cotto? E questa signora risponde. Me li dia entrambi, grazie. Entrambi, in una parola ci sostituisce sia prosciutto crudo sia cotto. È pronome ed è numerale perché parla di un numero, due. Entrambi vuol dire tutte e due, senza ripeterli. Quindi pronome numerale collettivo. Se invece vi chiedessi con un centinaio posso fare il pronome numerale? E la risposta è no, perché centinaio è vero che ci esprime una quantità numerica, ma non è un aggettivo, perché centinaio è un sostantivo. Attenti, come coppia è un sostantivo, una coppia. Tant'è che ha l'articolo che lo precede. Mentre un cinque, due cinque, tre cinque non si dice. Centinaio ha bisogno del... ha bisogno di un articolo o di un altro numerale. Un centinaio, due centinaia, tre centinaia come coppia. Sono nomi, quindi non possono fare da pronomi numerali dei nomi, dei sostantivi. Chiaro? Nel prossimo video trovate come si fa l'analisi grammaticale dei pronomi. A presto!